La lavabiancheria sta scaricando l'acqua dell'ultimo risciacquo a 12 minuti alla fine molto probabilmente penso ad avere compreso che abbassando la velocità della centrifuga la lavabiancheria diminuisce anche il tempo della fase di centrifuga finale spero di aver interpretato correttamente per questo mi riferisco per chi possiede una lavabiancheria Panasonic la lavabiancheria 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 Grazie. 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 Grazie.